È un importante risultato per le comunità e la popolazione della Locride, in quanto oggi l'Arma dei Carabinieri ha aggredito una compagine criminale particolarmente agguerrita, dedita a una molteplicità di reati, dai furti in abitazione, allo spazio di sostanze stupefacenti, alla detenzione di armi da fuoco, alle truffe online con sottrazione di beni, quelli cavalli, trattori, autovetture e fino anche al maltrattamento di animali con modalità brute. È importante sottolineare come questa operazione sia frutto dello sforzo investigativo di due Stazioni Carabinieri. La Stazione Carabinieri ancora oggi si conferma come presidio di prossimità per eccellenza, in quanto tra la gente riesce a percepire dal cittadino quelle che sono le esigenze e in questo caso ad affrontare le problematiche e risolverle in maniera strutturata.